Penso davvero che la libertà di parola, la libertà di espressione sia una grandissima cavolata. Uno, perché il 99% delle persone dipendono da altre persone, dipendono molto da altre persone. Dipendi dal datore di lavoro, dipendi dal collega, dipendi da persone che se dici, se esprimi ciò che tu pensi senza filtri, quella persona magari non l'accetta e ti licenzia. E ora non hai più il cibo per portare, per dar da mangiare alla tua famiglia. Non hai più i soldi per poter dar da mangiare alla tua famiglia. E l'altro 1% invece, che noi andiamo a pensare, ok, però se io avessi così tanti soldi, se fossi una del top 0,01% della società, che ho miliardi, potrei dire tutto ciò che voglio. Le persone in potere possono dire tutto ciò che vogliono. Bene, un esempio di questo, che prova al contrario, è Kenny West, miliardario. Ha espresso ciò che lui dice e ci sono persone da cui non dipendeva direttamente, che però hanno visto, non sono d'accordo con quello che lui ha detto. Io non dico che adesso sono d'accordo con le cose che ha detto Kenny West, però dovrebbe essere ognuno libero di dire ciò che vuole, no? Quindi, nel suo caso, si è fatto dei nemici, boom, perso, grandissimo capitale, non è più miliardario, cioè 200 milioni. È un grande salto, da miliardo a non so quanti miliardi, penso, non mi ricordo quanto, però 200 milioni, grandissima differenza. Ti senti davvero come andare da mille euro ad avere 150 euro o 100 euro relativamente. Quindi, anche persone che hanno potere non possono dire tutto ciò che vogliono, perché a volte ti puoi creare dei nemici. A meno che tu non sia in grado di crearti dei nemici che sai che puoi battere, è meglio essere furbi e mettere dei filtri e non dire tutto ciò che pensiamo, perché non vogliamo farci dei nemici, soprattutto se non possiamo batterli, perché se ci battero noi, ecco che adesso noi non abbiamo più le gambe, non abbiamo più il potere, il nostro potere viene tolto letteralmente.